Cicerone a difesa della Sicilia Da lì nasce una vicenda che è un vero e proprio poliziesco in cui i siciliani e Cicerone si scontreranno contro degli uomini di potere potentissimi del senato romano. Ripeto, è avvincente come un giallo e si protrae nell'arco di un anno e Cicerone con la sua genialità riuscirà a dare manforte aiuto ai siciliani. È una bella avventura, è un tema che quasi nessuno ha trattato teatralmente ed è un omaggio che il Teatro Biondo ha fatto alle scuole che amano il teatro. Una storia del passato ma sembra una storia recente. Assolutamente, le dinamiche del potere, della battaglia tra criminalità e giustizia, tra onestà e disonestà e tra sudditanza e libertà sono assolutamente le stesse. Nella Roma antica erano portati al massimo livello, cioè parliamo di continui omicidi, violenze, saccheggi, ma le dinamiche che si vedono sono talmente attuali da fare impressione. Non abbiamo inventato nulla a riguardo. Sicilia purtroppo sempre depredata? Beh sì, soprattutto allora la Sicilia era ancora la più grande, prima e più importante provincia della Roma antica. I senatori romani spesso attingevano alle province per guadagnare, ma Gaio Verre farà di tutto, cioè deprederà i contadini, i ricchi, le città, i santuari, stuprerà. Insomma è veramente equiparabile all'arrivo di una serie di terremoti per la Sicilia. Ma si può combattere contro la giustizia e la storia in questo caso ce lo dimostra, contro le ingiustizie e per la giustizia. Il teatro e la cultura allora come denuncia? Come denuncia, ma soprattutto il teatro è la migliore maniera che si ha per imparare. Si fa in piedi, è dinamico, crea relazioni e soprattutto dà vita a quelle parole che sono semplicemente sulla carta. Grazie al teatro diventano qualcosa di vivo, che brucia e che ritorna a dare emozioni. Il teatro è veramente la migliore maniera di apprendere che abbiamo.